Rimbalzo in corso per la maggior parte delle criptovalute in questo momento vediamo percentuali super positive questo significa che siamo fuori pericolo significa che ritorneremo a mettere percentuali interessanti soprattutto per bitcoin e verso un nuovo massimo storico in questo video voglio assolutamente parlarvene ci sono tante novità importanti anche per quanto riguarda XRP che ha vinto finalmente la causa contro la SEC americana e questo è super positivo per la maggior parte delle altcoins soprattutto negli Stati Uniti XRP ha messo un 16% in un giorno quindi diciamo che è stato molto positivo questa mossa voglio aggiornarvi anche per Crypto.com che ha introdotto una nuova carta diciamo nuovi benefit se si depositano un tot di cro sulla piattaforma non nuova carta scusatemi un aggiornamento per la carta e quindi voglio aggiornarvi anche per questo iniziamo subito ragazzi per ormai iniziare è fondamentale distruggere il tasto di mi piace come al solito basta un clic al gioco fatto dai verdi inizia il weekend e possiamo staccare un po' dalle turbalenze del mondo cripto e se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi detto questo Crypto Wabbles tutte le cripto sono in verde notizia super positiva ci sono tanti rimbalzi ma se prendiamo i grafici degli ultimi 7 giorni ad esempio se andiamo su CoinMarketCap vediamo che siamo comunque negativo di 5, 10, 15, 10, 20, 13% c'è qualche nome in positivo per quanto riguarda le cripto però comunque siamo sempre una zona in cui le cripto sono salite hanno fatto una percentuale positiva però molti nomi comunque sono in rosso su 7 giorni che è un grafico molto recente MarketCap siamo a 2,13 trilioni siamo risaliti finalmente 2,1 trilioni volumi 94 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore quindi questo vuol dire che ci sono volumi nel mondo cripto gli ETF stanno andando abbastanza bene su Ethereum e diciamo Bitcoin ci sono degli outflow anche però lo stesso non ci possiamo lamentare per le criptovalute in generale quindi notizia molto molto positiva passiamo un secondo ragazzi alla notizia che ha un po' mosso i mercati positivamente perché è uscito un dato macroeconomico che non sempre viene preso con un forte impatto non è molto importante però in questo caso è importante perché ci sono usciti i jobless claim che sono stati di 233 mila al di sotto delle aspettative come ci dice Marco solitamente è un dato senza muscoli ma oggi è importante averlo al ribasso quindi le persone hanno preso gli analisti gli economisti eccetera hanno preso questo dato molto sul serio perché potrebbe far cambiare idea alla Federal Reserve per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse per quanto riguarda il ribasso dei tassi di interesse però è quasi sicuro che a settembre ci sia un taglio perché l'economia potrebbe essere a problemi per quanto riguarda scusatemi la recessione che in Europa a mio parere da quello che vedo in Europa già siamo in recessione gli Stati Uniti potrebbero già esserlo però si cerca sempre di non dirlo di nasconderlo per non fare agire male i mercati soprattutto anche in altri posti come in Giappone che ha avuto una giornata molto negativa che ha trascinato poi tutti i mercati poi soprattutto ragazzi è da considerare che ovviamente voglio dire che non siamo per niente fuori pericolo voglio dirlo già subito il prezzo di Bitcoin potrebbe anche raggiungere 70 mila nei prossimi giorni perché Bitcoin è così Bitcoin va da 70 mila scende di nuovo a 49 mila va di nuovo a 60 mila quindi è molto volatile però anche una risalita verso 65 mila non vuol dire che poi andremo direttamente a 100 mila quindi per questo secondo me è importante avere sempre un altro po' di liquidità fin quando la situazione non si calma e fino a settembre potremmo vederne delle belle a settembre stesso ottobre potrebbero essere mesi molto volatili quindi mi aspetto che questa volatilità ovviamente continui e significa che si possono fare tanti soldi in verità con tante criptovalute però è molto rischioso per quanto riguarda cripto.com ha introdotto questo aggiornamento per le carte per chi ha un milione di dollari di valore in cro quindi un milione di dollari in cro un milione di dollari ragazzi lo dico lo butto così in cro ovviamente tanto un milione di dollari la dico però può essere qualcuno tra di voi vuole avere un milione di dollari in cro bloccati sulla sulla piattaforma avete la possibilità di ottenere un paio di biglietti di prima classe quando si spendono più di 500 mila dollari in un anno poi c'è il servizio con siege di lusso con il manager personale dedicato due biglietti aerei di prima classe al prezzo di uno con i referral rimborso per Netflix al 100% Spotify Prime X Expedia Airbnb mi fa ridere perché veramente sono cose assurde però penso che qualcuno può essere che abbia un milione di dollari in cro bloccati sulla carta voglia farlo e sono comunque incredibili ragazzi come diciamo bonus magari ci fossero questi bonus per all'isotto di un milione diciamo 200.000 va bene voglio rischiarli 200.000 in cro ok un milione di dollari in cro bloccati sulla piattaforma può esserci qualcuno che sicuramente usurrirà perché i bonus sono molto interessanti però nel referral si può ricevere un biglietto in prima classe è incredibile davvero detto questo ragazzi voglio parlarvi di XRP perché XRP ha vinto finalmente questa causa contro la SEC la SEC che si porta avanti ormai da 2-3 anni e pagherà una multa di 125 milioni di dollari molto meno rispetto si parlava di un miliardo si parlava di 800.000 dollari 800 milioni di dollari in multa e si è chiuso qui quindi secondo la SEC XRP non è una security e questo vuole far bene anche altre criptovalute fa bene ad esempio Accro fa bene Shiba Inu tutte le altre altcoins che sono sul mercato degli Stati Uniti che si rischiava di vedere un listing dagli Stati Uniti degli exchange centralizzati quindi è positivo vedere ciò XRP ha reagito con un più 30% contando anche le ombre qui le Wix delle candele quindi notizia super super positiva e vediamo se questo porterà diciamo una ventata di positività anche per quanto riguarda le altre altcoins che per ora sono in rimbalzo ad esempio Crow non me l'aspettavo ragazzi ha avuto una forte crescita è passato da questa candela qui che è toccata gli 0.06 fino agli 0.08 e stiamo parlando anche in questo caso di un 30% cioè nel mercato azionale ragazzi fare un 30% e 1,2,3 in 4 giorni è impossibile è possibile raramente ma è impossibile ok nel mondo crypto diciamo vediamo un calo e poi vediamo un 30% di spike poi rivediamo un altro calo del 40% è un roller coaster come diciamo una giostra è incredibile davvero e in questo momento però parlando del prezzo si trova su una resistenza importante perfettamente ha toccato questa zona che ho già segnato in passato quindi zona di resistenza che appunto la supporto spesso qui e dobbiamo romperla per diciamo ritornare sui livelli degli 0.09 eccetera e qui dovrebbe esserci molta forza per farlo e spero che ci accada ovviamente per quanto riguarda anche Ethereum ha avuto una bella risalita ragazzi se misuriamo questa candela di Ethereum vediamo che abbiamo messo un più 17% con un sola candela quindi questo è molto positivo Ethereum potrebbe ritornare in questo range quindi in questa zona qui senza nessun problema se Bitcoin dovesse ritornare sui 70.000 io penso che prima o poi ci sia di nuovo un'altra salita ragazzi però bisogna vedere un po' la situazione macroeconomica geopolitica che si assesti perché ora siamo un po' in una zona di casini per questo non vediamo le crypto molto forti però potrebbe esserci un ritorno restare sintonizzati e a proposito ragazzi c'è una promo molto interessante con BitGat in questo momento sia per chi è iscritto ma anche per chi non è iscritto tramite il mio link quindi per tutti c'è il link qui in basso in descrizione se depositate 100 USDT ricevete 500 dollari in posizione futures di Bitcoin USDT dal 5 fino al 31 agosto c'è la possibilità di partecipare ci sono tutte le informative qui in basso sotto questo video è una grandissima opportunità ragazzi davvero 500 dollari in posizione sui futures Bitcoin USDT quindi sono soldi gratis se potete utilizzare questa posizione per aprire un trade fate anche 1000 euro di profitto ve li prendete in tasca gratis quindi dategli assolutamente un'occhiata e tramite il mio link oltre a avere questo avete anche se non siete iscritti il 5% di sconto sulle fees per sempre e fino ad 8000 dollari di bonus se fate trading volume sbloccate man mano questi bonus sul vostro account quindi tutti i link sono qui in basso in descrizione e dategli assolutamente un'occhiata detto questo ragazzi grazie mille a tutti per aver visto in questo video noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura buon weekend a tutti buon fine settimana ci vediamo lunedì ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti